Sì, è disponibile ad andare avanti per il prossimo governo? No, io ho finito ragazzi, io devo fare quello che ho fatto con il governo Draghi, era un tecnico del governo Draghi, e adesso ci sono la politica, deve riprendere il suo predominio, il Parlamento il suo predominio, e io devo trovare un lavoro, vi saluto, grazie infinite per tutto questo periodo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.